Soddisfatti dell'incontro qui alla provincia? Ma in questi incontri non si può essere mai soddisfatti perché ognuno sostiene le proprie tesi. Il problema permane e sussiste. C'è l'impegno da parte del commissario che coinvolgerà la Regione per vedere di portare avanti un progetto di contenimento delle tariffe. C'è un problema del coinvolgimento dell'autority dell'energia perché deve provvedere a sistemare determinate cose relativamente al contratto con Caltacqua. Per noi permane il problema che il cittadino deve essere tutelato. Attualmente le istituzioni sono latenti, sono assenti, sono latitanti e non so trovare nemmeno la parola giusta per quantificarla. Noi continueremo sulla strada degli incontri per cercare di capire maggiormente come poterci confrontare e comportarci nei riguardi di Caltacqua e nei riguardi delle istituzioni. Cercheremo ora di coinvolgere i deputati regionali e cercheremo di coinvolgere anche i deputati nazionali perché il problema più che tecnico diventa politico. È tecnico per quanto riguarda le tariffe, è tecnico per quanto riguarda il consumo dell'acqua, è tecnico per quanto riguarda la gestione, ma diventa politico anche per quanto riguarda la gestione. Cioè nel momento in cui si è firmato questo contratto che vale per 30 anni e c'è un aumento continuo bisogna che qualcuno intervenga per vedere cosa deve essere fatto anche perché inizialmente si prevedeva che con gli investimenti, con il rifacimento della rete idrica, con tutta una serie di cose che erano previste nel contratto si sarebbe arrivata ad avere l'acqua 24 ore su 24 e avremmo avuto anche una riduzione delle tariffe. Questo da come si evince non potrà succedere, anzi si prevede che nel 2014 ci sarà un aumento delle tariffe superiore al 13,50% per come è stato nel 2013.